Ciao, mi chiamo Fabrizio e sono un italiano che vive in Florida. Mi occupo di selezionare, acquistare, ristrutturare e quindi vendere immobili, soprattutto villette monofamiliari, qui in Florida. Questa che stai vedendo è una villetta monofamiliare, composta da tre camere da letto e due bagni, un garage doppio, una grande family room, una Florida room che è quella esterna, in più abbiamo la lavanderia, anche il garage è completamente ristrutturato ed è doppio, annesso proprio la casa, il condizionatore è nuovo, gli elettrodomestici in cucina sono tutti nuovi, anche gli elettrodomestici della lavanderia, quindi lavatrice e asciugatrice, sono nuovi, ed infine troverai i due bagni completamente nuovi, uno con la doccia e l'altro con la vasca, e il tetto, anche lui, è stato completamente ristrutturato e sostituito. Mi piacerebbe sapere che cosa posso fare per te qua dalla Florida, vai a dare un'occhiata al mio sito, poi mandami un'email, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.